pronti alla lotta partenza go buon ciao bella o aiuto al vostro amichevole non non è una pratica inventata eccoci qua con una bellissima nuova espansione no mi sa che ho preso l'esportissimo però abbiamo pure il mio tu che è forte secondo me anche il mio tu è forte fortissimo il mio tu li distruggerebbe tutti i vostri video anche il drago tutti tutti il mio tu è devastante allora il mio tu c'è il poterì c'è strano a me due xavier e jeans jeans o può dare lì ecco che è bello intendo se stai sentendo un discorso tra meglio moscelino allora bellissimo bello comunque sembra uno dei punti allora se questo dei punti bianchi sono di fabbrica i punti bianchi fanno sempre i punti bianchi no bello è bellissimo e la stella nel fermamento figo e qua alla fine secondo me questo dovrebbe sostituire un po anche evoluzioni quante carte sono in tutto sono 70 carte più vabbè più ore fuori serie che qua stupendo questo è che voi possiamo fare possiamo fare un piccolo un piccolo mio tu nella città perché qui si fanno i raid per prendere il mio tu leggendario si fanno i raid loro nella natura li possiamo vedere qua vediamo che abbiamo dato una bacca per farlo si ok come catterby che fa essere catterby che fa essere catterby e con keldur è vero era ironico il sito che fa essere come catterby ma che stai pensando scusami da quando catterby c'ha gli occhi e il naso rosto non te lo ricordi catterby è verde è una razza strana terza evoluzione di poca malotta c'ha i bastoni in mano c'ha le colonne portanti in mano nella natura pikachu ovviamente questo sta mangiando per tenerlo fermo è l'hardita come l'hardita stiamo giocando blissy in una palestra questa è la palestra controllata dal team rosso gheridos nell'acqua ipom che spie che tutte le e questo è il poké center che trovate anche qui in fumetteria perché un poké stop è un luogo importante no luogo importante pure sotto casa mia l'asilo che non esiste è un luogo importante bellissime cioè vedi queste sono bustine peccato che hanno saltato il piede però bellissima queste si confondono belli 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 di questo si è carino molto molto carino di che stiamo parlando e poi il biastro super psico 50 con due energie una in colore che bellissima le bustine comunque è anche poi sono l'immagine che abbiamo visto se figo si è un po più fonda transfer 160 sposto in energia da questa poco uno di quelli nella tua panchina carino niente di che eccezionale questo lo lasciamo slivato allora possiamo dire una cosa qui c'è una particolarità di una di una carta che se trovata si può sgusciare e dice sì c'è un ditto miniaturizzato sopra se lo levi ti dice che il pokémon è figo e deve essere l'ultima carta yes c'è al mente a ok l'articula è la ho garantita vero sì poi a me quel video un codice è giusto per entrato ok modulo scacciarmi del pokémon go candela pokémon ratata numel raticate tranquille l'arvita la reverse e blastoise bellissima scritta poco mongos su tutti si le reverse mettiamo come io schifo un po ho già la ho già giusto per far vedere un po le carte come è successo ok avevo perso un po di tec no aspettate ragazzi costa è la prima bucina messina fallata è una messina come ultima a me così mi è uscito c'era degli allenatori pensavo che l'ultima era articuno a quale la prima cosa mia bustina io l'ho fatta così in ordine normale e io pensavo che erano dici caccia nemmeno dici carte 8 carte a te dopo la energia e ci sono pure a me invece in quella nella prima bustina sì servizio ok è bellissima eravamo a quello che aveva fatto vedere tutta o metri che nato la parola sopia di pure il suo codice io so i candela risoperto armand e già non mi sta piacendo se spaziole già mi ha già mi ha scappato e mi ha truffato e mi ha truffato e mi ha truffato ok bravo beh non sarebbero trovati tutti no manca al giallo sempre vabbè vabbè niente sennò lo sarà a fare no e l'ho vista eh no blanche golisopo a denevia e ramella bene la caramella rara ah ritorno così ah figo oh bella solis mamma mia c'è qualcosa piccaci squirtle bibare rattata numero iphone e dragonite di bellissima la artwork ma al fine non ci dovranno poi toccati tante carte fighe penso eh non ci dovrò poi così tante carte fighe quello che ho visto ah ci dovrò le astro eh sì no è abbastanza spiegato e poi un po di full art ma niente di grosso come le altre c'è qualcosa di no ma credo che siano più per di più per la questione di quella carta speciale penso di sì eh c'è il mio tu che è fighissimo micica eh micica che bello spettacolo windpod pdav magikart melta nivi slowpok e pikachu ok oh no è figo il pokestop e niente è niente raga più o meno non lo so perché poi le olo sono garantite perciò niente di che è stato è stato un po vuoto eh sì siamo ritornati al buon po che fortissima perché mai andare avanti di più e si piange perché mai andare avanti diciamo po che forse lo può permettere tanto lo sa che questi hanno già venduti miliardi in prelitto e ciò che interessa quindi nessuno aspetta perché poi se una aspetta ed è buono costerà mille miliardi complimenti a pokemon purtroppo e poteranno i soldi ci sono bisogna far sapere di più e noi abbiamo un dragon eye tv 4 euro per pagato sì 75 mila euro la collezione poi viene sequenza e la voglio da 10 euro e io la voglio vendamenti per recuperare che è forte eh sì red vediamo al prossimo video ve lo voglio